Eccoci, ciao a tutti da Cascina e Macafranca e un gruppo splendido che ho dietro le mie spalle che oggi parteciperà praticamente tutto al nostro pranzo di Natale o qualcosa di molto simile. Vi ricordo che per gli eroi, loro sono già eroi, per i supereroi c'è il venerdì al parco. Ci sarà l'azione, lezione e poi facciamo un piccolo aperitivo, io ve l'ho promesso, so che molti di voi ci tengono, vi portarò il chiocciolo. Il bimbrulè vogliamo. Il bimbrulè? Mi piace. Io non so come si fa. Non mi piace. Ok, comunque, venerdì tutti, anche per gli altri centri, i centri di, praticamente, Grunasco e i centri di Olimpico Mostella sono invitati, quindi uniamo tutti i centri all'aperto. C'è lezione 11, 12 e mezza, alle 12 e mezza facciamo un bel aperitivo. Quindi vi aspettiamo tutti, intanto questo video lo vedrete e festeggiamo in 23, ovviamente un po' alla fine dell'anno. Allora, intanto oggi, subito, partiamo subito, qui arrivano caborria, cantanti, comunque molto bella l'energia che c'è, noi dopo ci andremo a fare il pranzetto qui all'antiriviene e vi aspettiamo tutti, ovviamente spero che arrivi qualcuno di più perché so che siamo, siamo 16 con te, 18 più 8, 16 con te. Ok, e quindi credo che arriveremo a una ventina. Vi aspettiamo, intanto un piccolo ripasso di 18 con Simonetta e poi andiamo avanti con le altre forme a spiegare. Via! La forma anche della latti. No, per chi non lo sapesse, Simonetta ha dato sfoggio della sua bravura, della sua Sansicario, infatti era famosissima perché ha fatto un pezzo di Flashdance. Mi ricordo che Sansicario probabilmente si farà ad aprile in una veste diversa ovviamente per Pasqua e se ero non scettico però sono andato un po' come osservatore, devo dire che sono molto ben organizzati e tutto molto carino e la questione delle Camerate in realtà è un valore aggiunto. ci siamo trovati veramente bene e è stato, come dire, è stato molto unente, c'è stata molta coesione, quindi vi propongo con più enfasi la prossima volta di venire anche voi a Sansicario. Dai, partiamo, ecco, erano tutte le linee, dovete vedere, io ho visto una cosa di Enela che posso... Allora, eh, allora. Voi umani non potete immaginare. Ti deluso, eh, ok. Facciamo delle cose incredibili. Vai. Ah, non è di nessuno che adesso vi sento. Eh, buono. Eh, buono. Ah, ci è passata la parola. Poi sempre vai, facendo... Eh, ecco. Va bene, calia, poi vai. Facciamo un bel capo. Eh, fine anno. Adesso va. Sì, guarda che bello. Il carino, qui c'è. Che bello è il capo. Che facciamo un bel capo. Ok, dai, avvoli. Concentratemi. Espiri un passo. Allora. 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 Grazie. 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 Quindi, ho un po' pezzi di buttare con occhi chiusi. Quindi, nemmeno segue il proprio respiro, aprite il suono quando siete in fase di equilibrio, perché questo può sbagliare. Se vi sentite sicuri che fate il gallo d'oro con una certa tranquillità, potete farlo con occhi chiusi. Se invece avete qualche problema, aprite quando fate questo, infatti scarico. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e con questa energia.